In Cristo ho trovato l'amore che non ho mai trovato da nessuno, né nella mia famiglia, né dagli amici, né da nessuno. Proprio il Signore, anche come dice la Sua parola, che è un passo che è molto caro a me, è il Salmo 27,10, che dice, qualora tu padre e tua madre ti abbandonino, io ti accoglierò. E questo passo mi ha accompagnato e mi accompagna tutt'oggi perché io sono stata abbandonata dalla mia famiglia, ma Gesù mi ha accolto. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce e neosocietà. Grazie per aver scelto i nostri contenuti e non mi resta che lasciarvi incuriosire dalla seconda parte di Meriem. Buon ascolto. Ci hai parlato della svolta, no? Ci hai parlato appunto di questa conoscenza col tuo padre celeste, appunto, con Dio. E com'è nata questa conoscenza? È nata proprio in quel periodo in cui io sono entrata in depressione completamente, chiusa in me stessa e nessuno sapeva della mia condizione. Nessuno, tranne Dio, che io ancora non lo conoscevo, però lui conosceva me e sapeva che io, è l'unico che sapeva che io ero completamente al buio. E' successo che una mattina mi suonano al citofono e io veramente come un cadavere mi alzo dal letto, apro senza neanche chiedere chi fosse. Ero talmente drogata dalle medicine che prendevo che non mi rendevo conto di quello che stava succedendo, che stavo facendo. Mi alzo, apro la porta e torno nel letto. Quella mattina la persona che mi ha suonato al citofono era una sorella, una sorella che io non sapevo che fosse una sorella e lei non mi conosceva, non sapeva chi fossi. E poi lei mi ha raccontato che io abitavo vicino all'asilo, che mentre passava di lì ha sentito nello spirito Dio che gli diceva suona a quel citofono. E lei non riusciva subito ad obbedire perché a volte noi credenti abbiamo un po' difficoltà a dire ma chissà che trovo lì, perché lei diceva ma signore ma che troverò in quella casa, perché devo suonare questo citofono, chi è questa persona? Lei mi ha raccontato che è tornata fino a casa e continuava a sentire questo peso, suona a quel citofono. E' tornata indietro e mi ha suonato e quando è entrata ha iniziato a gridare, a urlare lo spirito del diavolo, vai via nel nome di Gesù, vai via nel nome… Io sentivo quello che lei diceva ma non capivo, cosa stava facendo, cosa stava dicendo, anche perché non la conoscevo. Io ero completamente nel buio in tutti gli effetti anche perché in quel periodo appunto mi avevano staccato la corrente, mi avevano staccato il gas quindi eravamo senza niente, lei ha aperto le finestre e si è presa cura di me, della mia bambina. Ha chiamato in soccorso altre sorelle, mi hanno pulito la casa che era completamente un disastro, c'era muffa ovunque perché appunto non pulivo casa, non vivevo più e mi hanno aiutato. Io le guardavo e dopo che la mia famiglia mi hanno abbandonato non mi fidavo più di nessuno, quindi dicevo caspita queste persone neanche mi conoscono e mi hanno aiutato. E la mia famiglia, sangue del mio sangue invece mi hanno rigettato e quindi questa cosa mi ha fatto capire che c'erano ancora persone buone nel mondo. E quando poi ho iniziato a stare meglio, questa sorella mi ha regalato una Bibbia, proprio così in silenzio, senza dirmi nient'altro, mi hanno fatto il regalo. Io non volevo essere maleducata perché mi avevano veramente aiutato tanto, ho preparato da mangiare, ho pulito la casa, ho preso cura di mia figlia. Ho accolto il regalo, l'ho accettato, però ho specificato che io ero musulmana, ho detto guarda vi ringrazio, mi avete aiutato, però io sono musulmana e non mi interessano altre religioni. Non hanno insistito, è proprio finita lì la situazione. E ricordo che quando sono andati via, queste sorelle da casa mia, io ho preso la Bibbia e l'ho buttata fuori nel balcone. Ok. Perché mi sembrava di commettere un peccato verso Allah, tenere sia il Corano che la Bibbia è nello stesso luogo. Esatto. E per me era qualcosa di straordinario perché appunto mia figlia dopo la violenza assistita aveva iniziato ad essere violenta anche a scuola. Le sue maestre mi dicevano tua figlia ha bisogno di un psichiatra, tua figlia ha bisogno di parlare con qualcuno perché si guarda in aria. Se qualche bambino la tocca, lei dice stammi lontano, chiamo i carabinieri. Quindi nel sentire mia figlia che diceva di essere felice, ero felice anch'io di questa cosa. E gli ho detto, bene, sono contenta, è importante che stai bene, visto che il tuo cuore batte forte, mi stavo un po' preoccupando, no? E lei mi ha detto, no, no mamma, io sono felice e parlo con un signore che si chiama Gesù. Io lì per lì non ho preso la cosa, diciamo, sul serio. Era felice e per me quella era la cosa importante. Però ho preso il telefono e ho chiamato questa sorella che era venuta a casa mia nel parlare così del più del meno, perché lei è rimasta in contatto con me per sapere come stavo così. E gli ho detto, guarda, oggi è successa questa cosa qua, mia figlia mi ha detto che è felice che parla con un signore. Io non riuscivo ancora a dire Gesù. Parlavo con un signore così e lei è iniziata a urlare al telefono, gloria a Dio, gloria a Dio, perché proprio nella parola di Dio nella Bibbia è scritto che il signore negli ultimi tempi parlerà attraverso i bambini. E io faccio, no, ma cosa stai dicendo? La stavo anche un po' prendendo con lei, no, per questa cosa qui. Però ho chiuso la telefonata e fiatto fatto, finta di niente. Però Sabrina, dopo pochi minuti, mi dice, mamma, Gesù mi ha detto di dirti che devi andare fuori a prendere la Bibbia. E io dicevo, cioè, com'è possibile? Sabrina, come può dirmi una cosa? Cioè, non può essere lei. L'ho secondata, sono uscita fuori dal balcone e ho preso la Bibbia. E lei ha iniziato a dirmi, veramente conosceva il Vangelo. Mi diceva, Gesù mi ha detto di dirti che devi leggere questo passo, da qua fino a qua, o non questo, devi leggerlo tutto. Io mi segnavo su un fogliettino tutto quello che lei mi diceva e andavo a cercare quei passi che lei mi diceva, però non capivo. Non capivo quello che c'era scritto, non ero aperta neanche perché era la Bibbia, non era il Corano, quindi non credevo a nulla di quello che leggevo, di quello che non capivo niente. E lei continuava così per sette giorni, tutti i giorni, a dirmi, mamma, Gesù mi ha detto di dirti questo, Gesù mi ha detto di dirti quello. Ma che tipo di passi erano? Erano tanti passi, io non ho portato il quadernino, ce li ho ancora segnati in un quadernino, non me li ricordo tutti. passi proprio che averli letti dopo, comprendendo il sindrome che mi parlava in quel momento. Agli esempi mi ricordo uno, se non mi ricordo esattamente quale è, nella Bibbia, che parlava proprio degli uomini violenti. C'è un passo che proprio diceva, io ti proteggo, e Sabrina me l'aveva, io in quel momento non mi diceva niente quello che lei, è fatto così per sette giorni. Io l'ho assicondata, facevo quello che lei mi diceva, però continuavo comunque, nonostante avevo davanti l'evidenza, non riuscivo a credere a quello che lei mi diceva. Addirittura cercavo un po' anche di ingannarla, tipo magari dopo un paio d'ore. e le dicevo, allora se è vero, dimmi quello che mi hai detto due ore prima. E lei mi diceva la stessa cosa, io avendomi segnato le cose, e lei mi diceva proprio i versi, i passi uguali. Quindi, aspetta, come fa? Le dicevano, però mi ha mandato veramente tanto in crisi, anche perché le ho fatto anche domande private, e lei non poteva sapere quello che mi diceva. Quello che mi ha messo potentemente in crisi è che lei non poteva conoscere i passi biblici, che lei non aveva mai visto una Bibbia in vita sua, non aveva mai fatto religione a scuola, quindi non poteva sapere. Ma io, nonostante ciò, dicevo, no, è possibile. Cosa sta succedendo? Tra l'altro, due profezie che il Signore gli aveva detto che sono avverate, un anno dopo, e continuavo, appunto, a non credere a quello che lei mi diceva, talmente che, a mia vergogna, una sera, l'ho presa mia figlia e l'ho messa alla porta. E le ho detto, guarda Sabrina, tuo padre non c'è più, è in carcere, tu hai soltanto me al mondo, non hai nessun altro, quindi sappi che tu, dicendomi queste cose, mi stai facendo impazzire. guarda che io morirò, volevo proprio spaventarla per far confissare, no, quella che secondo me non poteva essere vero quello che lei diceva, pur sapendo che non poteva inventarsi quelle cose. Guarda che rimarrai da sola al mondo, io morirò, e tu rimarrai completamente da sola. E lei, con le lacrime agli occhi, non dimenticherò mai la sua faccia, adesso sto rivivendo praticamente quel momento, mi ha guardato con le lacrime agli occhi e mi ha detto, mamma, io non sono sola, io Gesù. e lì io sono crollata, perché ho detto, caspita, cioè io l'ho messa proprio alla porta, mia figlia, l'ho messa completamente alle strette e lei continuava, io dico la verità, io ho Gesù, io non sono sola, io ho Gesù. Lei, nonostante non aveva il padre, nonostante aveva una madre che l'ha messa alla porta, lei non si sentiva sola, perché aveva Gesù. E questo mi ha messo veramente in crisi, quindi dentro di me dicevo, c'è qualcosa che non va, Sabrina non può inventarsi queste cose, l'ho messa alle strette e ancora mi dice che dice la verità. Quindi mi sono chiusa in casa per tre giorni, di nuovo, senza uscire. e ho iniziato a parlare da sola. Giravo per casa e dicevo, se è vero che parli con mia figlia, devi parlare anche con me, perché altrimenti io non posso credere a questa cosa. Ed è successo che, dicevo anche a Sabrina, che lei, mai pregato, che si metteva così, e io vedevo le sue labbra che si muovevano, non sentivo la sua voce, neanche la voce di Gesù, ma lei proprio sentiva la sua voce, come tu ora senti la mia. E vedevo le sue labbra che si muovevano e sapevo che stava parlando con qualcuno, ma non sentivo. E gli dicevo, allora chiedi a questa persona che tu stai parlando, perché non parla anche con me. E lei si metteva così, chiudeva gli occhi, e mi ha detto, mamma, Gesù mi ha detto di dirti, che non ti parla, perché tu non credi. Per questo che Gesù non ti parla. E quindi in questi tre giorni, in cui veramente mi sono chiusa in me stessa, giravo per casa ovunque, andavo in camera, in bagno, in sala, se tu parli con mia figlia, devi parlare anche con me. Però non è successo nulla. Quindi ho detto, non è vero niente. Al settimo giorno, alla sera, come nei giorni precedenti, Sabrina mi ha detto, mamma, Gesù mi ha detto di dirti, che devi prendere la Bibbia. Io ero arrabbiata, delusa, perché con me non aveva parlato nessuno, quindi ho preso la Bibbia, e l'ho buttata per terra. E gli ho detto, Sabrina, che questa sia l'ultima volta, che tu mi dici una cosa del genere. L'ho mandata a letto, disperata, che piangeva, perché non avevo creduto, appunto, non volevo neanche leggere, quello che Gesù voleva, che io leggessi quella sera. Lei si è addormentata, ma io non riuscivo a dormire. Ero sdraiata nel letto, sono rimasta a guardare il soffitto, e a un certo punto, ho preso il telefono, così, per passare il tempo, perché non sapevo cosa fare, non riuscivo a dormire, e a un certo punto, sul mio schermo del mio cellulare, è apparso un canto. Un canto che io non conoscevo, perché appunto non conoscevo i canti, però questa melodia, mi piaceva, quindi ho appoggiato il telefono, e sono rimasta sdraiata, con gli occhi spalancati, aperti, ad ascoltare questo canto. A un certo punto, ho iniziato a sentire, la presenza di una mano, di una mano, che mi toccava, a partire dai piedi, e si alzava sempre più su, io sapevo, perché ero sveglia, sapevo che stava succedendo qualcosa, e dicevo, se sei tu, non mi basta questo, non mi basta, io sentivo che c'era qualcosa, ma questo non mi basta, dicevo, e quella mano continuava a salire, a salire, a salire, a salire, a arrivare al mio cuore, quando quella mano, che era il fuoco, lo Spirito Santo, che io tra l'altro sentivo un caldo, mi sembrava di essere sudata, perché era talmente un fuoco così potente, che mi toccavo, perché pensavo di essere sudata, ma non ero sudata, ma avevo un fuoco, sentivo un caldo, veramente potente, e quando quella presenza, ha toccato il mio cuore, io ho sentito, un dolore fortissimo, che mi ha abbandonato, ho sentito proprio strappare, un dolore, che io veramente non auguro a nessuno, un dolore fortissimo, mi ha lasciato quella notte, perché il Signore Gesù Cristo, mi aveva liberata, dalla prigione, e dal dolore, che mi stava uccidendo, e quando quel dolore è andato via, io mi sono sentita sollevare, dal letto, con gli occhi aperti, così guarda, mi sono proprio vista, così che giravo, e mentre giravo, la mia camera, che ero completamente al buio, quando ero sdraiata, era tutta illuminata, e sentivo tanti voci insieme, un suono di tromba, fortissimo nella mia stanza, e queste voci che dicevano, di Gesù, Dio Gesù, di Gesù, e io per la prima volta, nella mia vita, dalla mia bocca, è uscito il nome Gesù, e quando ho pronunciato, in lacrime, il nome di Gesù, e io, mi è apparso proprio un uomo, sulla croce, e in quel momento, io ho sentito dentro di me, una pace, una gioia, ma un amore, veramente, che non avevo mai provato, nella mia vita, fino a quella notte lì, io, quella sera, sapevo che, era Gesù, che mi aveva visitata, e mi aveva liberata, e quando ho pronunciato, appunto, questo nome, ho dato la mia vita a Gesù, ho chiesto perdono, perché ho visto, proprio un flash, della mia vita, mi sono rivista io, che mi volevo tagliare, le vene, quando mi volevo suicidare, e si è fatto mattina, perché praticamente, è stata un'esperienza, per tutta la notte, e quando Sabrina, mia figlia, si è svegliata, gli ho raccontato, quello che è successo, lei col sorriso, grande, fino a qua, mi ha detto, mamma, ora mi credi, ora mi credi, e quella notte, io ho dato la mia vita a Gesù, poi ho chiamato subito, la sorella, che il Signore, mi aveva mandato, e gli ho raccontato, l'esperienza avuta, e lei mi ha detto, gloria a Dio, perché fra due giorni, abbiamo i battesimi, nella chiesa che frequento, e quindi, ho parlato col pastore, di quella chiesa, e mi sono battezzata. Un po' di grazie, per l'esperienza che ci stai raccontando, però mi viene da chiederti, come è stata questa, nuova vita, con Dio nel cuore? È stato, qualcosa di straordinario, che è veramente difficile, anche spiegarlo a parole, perché quello che io ho sentito, quella notte, non l'avevo mai sentito prima, i miei vuoti, sono stati riempiti, io non avevo dormito, tutta la notte, non avevo chiuso l'occhio, neanche per un minuto, ma io ero carica, era come se avesse dormito, per otto ore di seguito, stavo benissimo, entusiasta, sapevo per la prima volta, che io non ero sola, non avevo la famiglia, non avevo amici, non avevo persone, di cui potevo veramente fidarmi, o veramente dire, se ho bisogno, ecco posso andare da quella persona, io non avevo questo, però sapevo, che c'era Dio con me, che non ero sola, e questo per me era, un miracolo, perché la cosa che mi faceva stare tanto male e soffrire, era proprio l'essere abbandonata completamente dal mondo, essere sola, ma il Signore Gesù Cristo, veramente ha riempito i miei vuoti, io sono qua oggi, a parlare con te, a raccontare di questa meravigliosa esperienza, e solo grazie a Dio, perché se non fosse stato per lui, io non sarei qui, veramente non sarei qui. Tu che rapporti avevi con la spiritualità, prima di conoscere Dio? Allora, io ero musulmana praticante, quindi pregavo tantissimo anche con il mio ex marito, lui, la donna doveva stare dietro al marito, quindi lui era davanti a me, e io dietro, e facevo quello che lui faceva, facevo il Ramadan, guai a chi mi parlava male della mia religione, io prima pensavo che i cattolici e i cristiani, fosse la stessa cosa, non pensavo che ci fosse una differenza, quindi convintissima che l'Islam fosse l'unica vera religione, per me, poverini, dicevano, i cristiani, i cattolici andranno tutti all'inferno, perché non credono in Allah, e ricordo ad esempio un episodio in particolare, perché io, soprattutto dopo la gravidanza, ho iniziato a soffrire di anemia, quindi ero diventata anemica, e però io il Ramadan lo facevo, e ricordo che mi hanno venuto l'ambulanza a prendermi, perché sono stata male, e mancavano poche ore per poter mangiare, no, altra monce del sole, e quando mi volevano attaccare la flebo, io no, ho rifiutato, e mi hanno dimessa, dicendo proprio che la paziente, ha rifiutato di essere visitata, a causa Ramadan, ero talmente condizionata, talmente legata, perché comunque mi hanno insegnato, anche nella mia famiglia, che sarei stata punita, se non avessi fatto il Ramadan, o comunque se non avessi obbedito al Corano, io sarei stata punita da Dio, quindi avevo paura di Dio, io avevo tanta paura di Dio, quindi io mi comportavo bene addirittura, anche camminando magari in un centro commerciale, o anche con il mio ex marito, io camminavo così, cioè guarda, magari se vedevo anche una persona, un uomo per dire, io avevo vergogna di alzare la testa, per vedere, stavo così bassa con la testa, sì, talmente condizionata, io dovevo comportarmi bene, e volevo piacere a Dio, quindi talmente che avevo paura, che io volevo comunque comportarmi bene per Dio. Quindi la paura di Dio in cosa si è trasformata? In amore, in amore perché la Bibbia dice che la paura, non viene da Dio, Dio è amore, e io invece nell'Islam ero terrorizzata da questo Dio, dovevo essere una musulmana perfetta, appunto per non essere punita, perché c'era anche addirittura per il Ramadan, quando magari la donna nell'Islam, quando ha le misturazioni, può non fare il Ramadan, ma deve recuperare una volta che è passato questo periodo. Quindi io non vedevo l'ora che passava per poter recuperare, e magari facevo anche qualche giorno in più, oppure magari in moschea, poi facevi un piatto magari del couscous, e lo portavi in dono ai credenti, ai fideli per essere perdonata. Quindi perché nell'Islam più opere buone fai, più vai in paradiso. E appunto la domanda che ti volevo fare era proprio questa, ti sei sempre rapportata con una fede, con un credo, in cui tu devi fare appunto qualcosa per ricevere qualcosa in cambio. Esatto. Quando sei entrata in contatto, hai avuto proprio la conoscenza di un Dio che ti salva per grazia, ok? Fermo restando che comunque le opere buone, è il caso ovviamente di farle, però quando ti sei rapportato di un Dio che ti ama indifferentemente da quello che fai, e che ti salva nonostante quello che fai, no? Un amore quindi così grande, no? Che esperienze hai avuto con questo nuovo Dio? Eh, gloria a Dio per questo, perché io in Cristo ho trovato l'amore che non ho mai trovato da nessuno, né nella mia famiglia, né dagli amici, né da nessuno. Proprio il Signore, anche come dice la Sua parola, che è un passo che è molto caro a me, è il Salmo 27,10. Che dice, qualora tu padre e tua madre ti abbandonino, io ti accoglierò. E questo passo mi ha accompagnato, e mi accompagna tutt'oggi, perché io sono stata abbandonata dalla mia famiglia, ma Gesù mi ha accolto, dandomi una famiglia in tutto il mondo. Quindi la cosa veramente meravigliosa che ho vissuto con il Signore è il non sentirmi più sola. Avevo qualcuno che mi amava, qualcuno che mi amava incondizionatamente, a prescindere. Lui era sempre lì per me. Questo amore grande, nonostante i sbagli, nonostante le mancanze, la paura, non c'era più timore, anche perché nell'Islam io recitavo delle preghiere, non parlavo direttamente con Dio, non esprimevo quello che sentivo. Io recitavo delle sue ore, e più ne recitavo, più era giusto. Dovevo imparare la memoria, anche se tante cose, non è che capisci, perché è l'arbo tradizionale del Corano, quindi recitavo delle sue ore, e le ripetevo nelle mie preghiere, ma senza in realtà comprendere che cosa io stavo dicendo, però le recitavo bene, e quindi era giusto. Ma col Signore è proprio la libertà di poter esprimermi, poter sapere che Lui sapeva quello che volevo dirgli ancora prima che io glielo dicessi. Questa è una cosa che veramente mi piace tantissimo, perché io so che il Signore sa che cosa provo, sa come io mi sento. A volte io sto anche in silenzio davanti a Dio. Mi prendo proprio un momento di silenzio perché io so che Lui sa io che cosa provo, sa che cosa sento. E quando parlo con Lui mi sento libera, spontanea, onesta, mi sento che io con Dio non ho limiti, posso veramente parlare di tutto, senza vergogna, senza paura. Perché io nell'Islam recitavo queste sure, non avevo una relazione personale con Dio, e magari commettevo qualche sbaglio, dicevo qualche bugia. Io avevo paura a recitare le sure, perché mi sentivo che avevo commesso questo peccato, e io non ero degna di poter recitare queste sure. oppure ad esempio il Corano, ad esempio, se tu vai in bagno non lo puoi portare, oppure devi lavarti in un certo modo prima di toccarlo il Corano è sacro, non si può toccare se tu non hai fatto i lavaggi, come appunto dice l'Islam. Ma col Signore questo non c'è. Tu puoi pregare ovunque, puoi parlare con Dio ovunque, perché questa relazione personale che io non ho mai avuto con nessuno, non ho mai avuto un'amica con cui mi sono confidata liberamente o una sorella con cui mi sono confidata liberamente con nessuno. Io fino ad oggi Dio è il mio tutto. Prima era il mio ex marito il mio tutto, adesso è Gesù il mio tutto. Io con Lui parlo veramente liberamente, mi esprimo con gioia, quando sono triste piango davanti a Lui, non piango davanti agli altri. Mi sento veramente questa cosa che nell'Islam non c'è. nell'Islam devi quasi essere perfetta. Può essere che con Dio hai conosciuto davvero un padre proprio letteralmente? Sì, sì, perché io la parola papà non l'ho mai detta fino a quando non ho conosciuto Gesù. Perché nella mia famiglia mio padre e mia madre non ci hanno mai insegnato a chiamarli mamma e papà. Ci hanno insegnato a chiamarli per nome. Fino ad oggi noi li chiamiamo per nome. E io questa parola papà l'ho pronunciata per la prima volta rivolgendomi a Dio. E io non trovo le parole veramente per esprimerti ora cosa ho sentito. Dire papà, papà. L'ho ripetuto tantissime volte nelle mie preghiere anche prima quando abbiamo pranzato insieme mi viene mi sento veramente figlia e mi sono sentita figlia solo con Gesù. Perché per me Lui è il mio papà in tutti i sensi. Papà Celeste papà Vivente papà lui è il mio padre perché io non ho avuto un padre. Tornando un pochettino anche alla storia del tuo ex marito ci sono stati degli episodi in cui lui ha provato a riavvicinarsi una volta tu hai avuto questa conversione. Sì, lui ha provato diverse volte a rientrare nella mia vita dicendomi che voleva ricostruire la famiglia dicendomi che era giusto così stare insieme io ho sempre detto che non volevo ho sempre detto che non era assolutamente la cosa giusta da fare anche per la bambina. L'anno scorso quando di nuovo lui era tornato per poter parlare con me perché usava sempre la scusa della bambina in realtà per potermi parlare io non gli avevo mai detto che ero cristiana fino a quel giorno eravamo ricordo nella mia macchina e abbiamo parlato per ore cercando di appunto di ricostruire il rapporto io ho detto guarda il rapporto non si può più ricostruire non solo perché sei violento ma io sono diventata cristiana la prima reazione che ha avuto è stata l'ennesima violenza è sceso dalla mia macchina e l'ha riempita di calci e poi se n'è andato mi ha bloccato su tutti i social whatsapp di comunicazione dopo un paio di settimane mi ha sbloccato e ha cercato di portarmi all'isla mandandomi dei filmati che parlavano di Allah mi diceva anche guardiamoli insieme guarda che stai sbagliando io sono preoccupato per te sei la madre di mia figlia stai portando nostra figlia sulla brutta strada non è Gesù che ti ha parlato ma è il diavolo che ti ha parlato sei posseduta io appena ti ho visto ho percepito una brutta presenza perché sei posseduta dal diavolo tutte queste cose qua io a mia volta gli ho parlato di Gesù e ho detto guarda che non è così anche perché io gli ho detto guarda che se non fosse per Gesù io primo non ti avrei neanche ascoltato se non fosse per Gesù io non sarei qua a parlare con te io non ti avrei perdonato e io oggi ti perdono il detto io ti perdono perché ho conosciuto Gesù Cristo però lui tutt'oggi è convinto che io sono posseduta dal diavolo lui prega credo prega per me per tornare islamica come anche mia madre che prega per me per tornare nella giusta strada e io prego il Signore di toccare il loro cuore ho visto alla fine è un buon scambio di freghiere diciamo lati opposti però sì un'ultima cosa prima di lasciarti giustamente alla tua vita no e questo finalmente impossessarsi della tua vita e finalmente scoprire grazie a Dio che il mondo non è tutto violenza come te lo descrivevano no poterti impossessare proprio della tua vita con un lavoro assaporare l'indipendenza no come hai vissuto questa nuova fase della tua vita spaisata ero molto spaisata soprattutto all'inizio io ho conosciuto il Signore però c'era sempre questa paura un po' anche di uscire di prendere la macchina e fare un viaggio anche una semplice cosa ad esempio prendere l'autostrada avevo paura io perché comunque faceva tutto lui quindi ero io responsabile di me stessa ma soprattutto di Sabrina quindi non è stato facile è stato un riscoprirmi come anche ritornando alla domanda che mi hai fatto prima io mi sono resa conto di poter fare cose che mai avrei immaginato di poter fare e dicevo sempre come dice la parola di Dio che appunto mi ha dato tanta forza io posso ogni cosa in colui che mi fortifica quindi io con questo passo dicevo ok ho paura dell'autostrada ma io non sarò sola Gesù sarà al mio fianco e andrà tutto bene ed è andato sempre tutto bene ho preso l'autostrada mi sono comprato la mia macchinina con i miei sacrifici ho imparato ad andare anche in montagna che prima avevo paura di farle salite avevo paura anche a socializzare parlare con le persone anche alzare lo sguardo magari davanti ad un uomo avevo tante paure tantissime paure veramente e piano piano ho scoperto che c'è una Meriem che può fare ogni cosa nel nome di Gesù cioè Dio spazza praticamente tutte le paure che avevi sì perché in ogni cosa che faccio io so che non sono sola so che Lui è con me so che lì c'è Gesù anche ora so che Lui è qua mi accompagna veramente sì ovunque che tipo di mamma è questa da virgolette nuova Meriem è una mamma affittuosa è una mamma severa nel giusto perché è giusto è una mamma più che mamma sono mamma amica zia papà nonna nonno io sono tutto per la mia bambina lei non ha qua la nonna non ha qua il nonno non ha qua la zia non ha qua il padre quindi io sono tutto per lei copro tutti questi diciamo queste mancanze queste mancanze è una mamma che tutto quello che fa lo fa per la sua bambina perché tutto ciò che ho vissuto io di brutto non voglio che lei lo viva sta crescendo grazie a Dio nell'amore di Dio perché come dicevo prima lei era diventata anche un po' violenta all'inizio poi veramente il Signore quando ha parlato con lei come ha liberato me ha liberato anche lei dal dolore ha riempito il suo vuoto e lei oggi è una bambina serena e le sue stesse insegnanti mi hanno detto veramente è un'altra bambina una bambina che per tutto quello che ha vissuto la violenza assistita la violenza psicologica oggi è una bambina serena io dico sempre grazie a Dio grazie a Dio perché è solo grazie a Dio che mia figlia oggi è una bambina normale normale so dire abbiamo parlato di chi è la mamma Miriam no? e invece chi è la donna Miriam adesso? la donna Miriam la donna Miriam è una donna che vuole fare la volontà di Dio io naturalmente sono una donna vorrei avere a fianco una persona una persona che principalmente deve amare mia figlia una persona che principalmente deve avere timore di Dio e quindi diciamo che in questo momento ho accantonato si dice accantonato la donna Miriam sono più mamma Miriam poi se Dio vorrà con la sua volontà con i suoi tempi sarò anche la donna moglie Miriam sì che deve amare anche te ovviamente sì sì e intanto grazie per questo piccolo viaggio che abbiamo fatto insieme grazie a te è stato piacevole e io per concludere vorrei farti una domanda no? abbiamo toccato tanti piccoli punti dalla violenza in casa all'interno di una coppia dai genitori abbiamo toccato una conversione abbiamo toccato tantissimi punti alla luce di tutto quello che ci hai raccontato no? qual è il messaggio che vuoi dare ai giovani che ascoltano questo podcast? io voglio dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando giovani anche anziani di cercare il Signore questo è il messaggio importante che io veramente voglio voglio trasmettere voglio dirti che sei preziosa sei prezioso che Dio ti ama che Dio è morto per te che c'è un Dio vivente che aspetta soltanto che tu gli apri il tuo cuore per poterti dare veramente una grande benedizione e soprattutto darti la vita la vita eterna quindi che tu sia una figlia una moglie o che subisci violenza o qualsiasi tipo di maltrattamento sappi che la vera libertà la trovi solo grazie a Gesù io penso sia la conclusione comunque perfetta no? cercare di riscoprire lasciarsi anche incuriosire da questo Padre Celeste e cercare di vivere appunto la nuova esperienza la nuova rinascita un po' come quella che ci hai raccontato tu e io ti ringrazio davvero anche per la voglia di condividere la tua esperienza con noi a 360 gradi e quindi è stato un bel un bel percorso che abbiamo fatto insieme ti ringrazio davvero per quello che ci hai detto grazie a te per questa opportunità per il resto io vi ringrazio per essere stati con noi io vi invito anche a seguire le nostre puntate precedenti quelle che verranno sulle nostre principali piattaforme quindi su YouTube cercando Op Media Italia su Spotify Apple Podcast Google Podcast cercando Socialite Podcast inoltre vi invito anche a consultare la nostra pagina Instagram cercando Socialite Podcast in cui noi pubblichiamo quasi quotidianamente comunque dei video della puntata che viviamo come sempre ogni mercoledì alle ore 20 vi auguro una buona serata e ancora grazie per l'ascolto e ancora grazie per l'ascolto